Gol, emozioni e primi verdetti nel weekend calcistico con l'Abruzzo del pallone che dispensa sogni tutti ancora da vivere e purtroppo retrocessioni senza appello. Intanto il Pescara continua a vincere riprendendo la sua corsa verso la Serie A. A Gubbio esce un bianco-azzurro con occasioni da rete a raffica, pali e traverse e i gol liberatori di Sansovini prima, in signe poi. I bianco-azzurri staccano Verone e Sassuolo e si ritrovano a due punti dalla capolista Torino. La promozione diretta è molto più di una possibilità e Zeman è pronto al rinnovo. In prima divisione il Lanciano perde lo scontro diretto a Siracusa e scivola in quarta piazza con i siciliani avversari anche nei play-off. Da stabilire chi otterrà il miglior piazzamento con la seconda in casa e il privilegio di poter contare su due pareggi. Decide Coda con un gol dopo dieci minuti che sorprende la difesa rossonera. Bene la Virtus nella ripresa ma la rete non arriverà. E' domenica ultima della stagione regolare in casa col Feralpi Salò assetato di punti salvezza. Guglielmo Maio. Giocavamo con qualche defezione, a Menta, a Mammarella su quella fascia ci hanno messo più in difficoltà. A centrocampo ci manca comunque Paghera quindi anche Giorgio giocava in un ruolo che non è propriamente il suo. Insomma un po' di defezioni ci hanno condizionato però i ragazzi che hanno giocato hanno giocato comunque bene al cospetto di una squadra che si giocava tutto in casa loro, una squadra costruita per vincere che senza la penalizzazione forse sarebbe arrivata prima. Nello stesso girone sorpresina in vetta con lo Spezia che vince a Trieste e raggiunge il Trapani bloccato sull'1-1 a Bolzano in virtù degli scontri diretti e lo Spezia ad avere un piede e mezzo in Serie B. In seconda copertina dedicata al Chieti che batte per 2-0 il campo basso, reti di Pepe e Sabatini e conquista così i play-off. Successo meritato, nero-verdi in palla e spareggi ora tutti da vivere probabilmente contro l'Aprilia dell'ex Vivarini. Il tecnico Paolucci Adesso riposiamo due giorni, poi da mercoledì penseremo al Celano perché vogliamo arrivare a quarti quindi vogliamo che chiudiamo questa avventura con una vittoria all'Ea Celano, anche se non sarà facile perché Celano sicuramente venderà cara la pelle. Umore contrapposto all'Aquila per un patatrack clamoroso i Rosso-Blu perdono ancora e sono fuori da ogni gioco play-off con un finale disastroso. Con Papagna in panchina, le sconfitte di fila sono arrivate a 5 in un ambiente simile ad una polveriera a cui si è aggiunto il caso Ruggero. Il difensore ha avuto un contatto con alcuni tifosi, poi è tornato nella sua abitazione ad Aprilia con un certificato medico e relativa prognosi di 12 giorni. Per il resto si rincorrono le responsabilità per una gestione allucinante. Partite addirittura per il primato, i Rosso-Blu sono crollati negli ultimi tre mesi. ieri 1-0 casalingo contro l'Aprilia. Lo scontro di tifosi verbale c'è stato assolutamente, probabilmente si sono pure toccati, però ripeto, lui si è allenato con la squadra, si è allenato con tutti, quindi una persona che prende 12 giorni non credo che sia nelle condizioni di potersi allenare. Dopo l'allenamento lui è ripartito, è andato ad Aprilia a una clinica privata e gli hanno fatto un certificato di 12 giorni. Non è andato al pronto soccorso dell'Aquila. E se il Giulianova ipoteca la salvezza diretta, 1-0 di Morga sull'Ebolitana... Quest'anno potevamo fare anche qualcosa di più di questa salvezza, invece abbiamo dovuto lottare fino all'ultimo minuto, anche oggi è una partita stregata, però sono contento per loro e per la società. Il Celano, già retrocesso, colleziona la sua ventottesima sconfitta, perdendo per 2-1 sul terreno del Neapolis. In Serie D è il giorno del trionfo per il Teramo, che pareggia sul terreno della Tessa Valdisangro e torna tra i professionisti. Grande festa col Diavolo, che è tornato a fare la voce grossa, col terzo campionato vinto nel giro di quattro anni e la gestione Campitelli più che positiva. Probabile che il tecnico Cappellacci sia confermato alla guida dei Biancorossi. Per il resto perdono Sant'Egidiese, Angolana e Luco Canistro. Il derby tra San Nicolò e Miglianico spetta ai padroni di casa, che condannano così Biancorossi alla disperazione, la retrocessione e a un solo passo.